Musica Venerdì 29 marzo, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione da TRG, con la nostra rassegna stampa, con le tante notizie, soprattutto di Cronaca, che caratterizzano le pagine dei quotidiani quest'oggi, vedremo anche il nostro sito internet, torneremo sulla vicenda di Cronaca che domina un po' la scena, quella dell'omicidio di Gubbio, che si è consumato l'altro ieri nel pomeriggio in pieno centro storico, ci tornano i giornali oggi, ci siamo tornati ovviamente nel TG di ieri, vi riproporremo il servizio, faremo il punto della situazione, ma si parla anche di politica, di ambiente con la commissione Comafie in Umbria, di ambiente abbiamo parlato anche ieri sera a Link nel nostro talk show settimanale, che andrà oggi in replica, lo ricordo, alle 13.50, e poi c'è un compleanno speciale, lo vedremo tra poco, che ci piace festeggiare per un grande personaggio del mondo del cinema e della fiction, Umbro di origine, che in Umbria ha trovato uno dei suoi grandi successi, avrete probabilmente capito di chi parlo, ma insomma andiamo alle prime pagine, partiamo dal Corriere dell'Umbria, che apre con la politica, perché è fibrillazione, nel PD e nei 5 Stelle, perché si apre la lotta per le poltrone, primi scontri interni per la composizione delle liste, tra i dem volano pure minacce, i pentastellati delusi, soprattutto a Perugia, dove Cristina Rosetti era stata indicata dal meet-up come candidato sindaco, invece da Roma è arrivato il dietro fronte, con un nuovo nome, quello di Tizzi, un tempo era una cosa seria, dicono i pentastellati delusi. Intanto gloria ancora di rimbalzo per il prestigiatore Folignate Paris, che è campione anche di solidarietà, qui con il sindaco Mismetti dal cilindro, di Paris spunta appunto una serie di iniziative benefiche. L'altra vicenda, inchiesta portata avanti dal Corriere dell'Umbria, riguarda i morti per cancro, punte in Alto Tevere, sud dell'Umbria, questo dice l'indagine del registro tumori, la mappa aggiornata del tasso di incidenza dei nuovi casi e decessi in testa ci sono, in Umbria, città di Castello e Terni. E poi il vento anima il Trasimeno, vedremo perché, mentre a Perugia quest'ora il nuovo questore Finocchiaro si presenta, più polizia in strada, mentre Assisi, a proposito di forze dell'ordine, blindata oggi per l'arrivo di Ragna di Giordania, insieme a, ovviamente, a Abdullah II, al Premier Conte e ad Angela Merkel. L'anteprima ieri sera al convegno del Serafico, con la presenza del Presidente del Parlamento Europeo Tajani, che tra l'altro abbiamo intervistato proprio sui temi di queste ore. Lo sport, il grifo, ecco, Riecco Breda, d'avversario, torna con il suo Livorno domani, col dente avvelenato. L'ex Marchi, a proposito di ex, sfida Domenica il Gubbio con la maglia del Monza, scusa, devo batterti, dice l'ex capitano. E poi il mago dipinto, nella pallavolo dice, la Sir Perugia è super favorita. Questo per il Corriere dell'Umbria. La Nazione, nel Corriere non troviamo richiami, invece la Nazione apre nel dorso nazionale, sulla Rissa in Aula, l'ennesima, stavolta il tema è quello del porno vendette, così le chiama il quotidiano, il revenge porn, l'emendamento per punire chi utilizza immagini porno per ricattare, soprattutto casi che avvengono online, emendamento che è stato respinto dalla maggioranza. E allora, soprattutto, molte parlamentari donne appunto hanno reagito e Di Maio ai ripari dice, martedì la votiamo, vedremo. Ma intanto, nel giorno in cui passa la legittima difesa, la Nazione parla anche del caso di Gubbio. Soprusi e violenze per anni, ecco perché l'ho ucciso, sarebbero le parole di Graziella Fioriti, di fronte ovviamente al magistrato, uccide il marito la confessione shock che viene riportata in alcune parti. Ed eccolo il compleanno a cui facevamo riferimento, Terence Hill, 80 anni sulla ribalta. La Nazione oggi dedica, con un bel servizio di Leo Turrini, un'intera pagina a un personaggio che, insomma, in Umbria ha le sue radici, originario Umbro, ma che soprattutto in Umbria ha visto coronare uno dei suoi personaggi simbolo, Don Matteo, prima Gubbio ed ora a Spoleto. Ma la Nazione Umbria si occupa purtroppo di temi meno leggeri di quelli del compleanno di Terence Hill, le discarica al collasso, ad esempio, con l'indagino, o meglio la presenza della commissione eco-mafie che sta affacendo il punto della situazione in Umbria, dove le discariche, ricordiamo, sono quasi piene e invece non c'è una soluzione per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ma intanto, tornando alla vicenda di Gubbio, abusi e violenze così l'ho ucciso, mi ha detto ti riprendo per il collo, avrebbe detto appunto il marito prima di coricarsi a letto e la moglie ha deciso di farla finita. Qui invece la cronaca ci parla dei rifiuti, ma in un altro senso, una tragedia, purtroppo, anziano cade mentre gette rifiuti, muore, dopo 18 ore di agonia sarebbe scivolato da una scaletta dell'isola ecologica. E poi ad Assisi, oggi, Lampada della Pace, la regina Rania in hotel, città blindata. Per l'evento, la buona notizia, la guerra allo spreco, col progetto Save Bags, che vede i comuni di Città della Pieve, Caritas e un ristorante locale lavorare gomito a gomito per questo piano, i primi contenitori per evitare lo spreco alimentare e donare ciò che avanza della giornata a chi ne ha più bisogno. A proposito di alimenti, consumi, è l'apertura oggi del messaggero, ortaggi alle stelle, e qui siamo ai prezzi, più 74% nel corso di un anno, alcuni prezzi di verdure e ortaggi sono lievitati oltre il doppio. Kodakons dice che alcuni aumenti sono ingiustificati, più caro il pesce e le clementine invece scontatissime. Ancora D'Agubbio l'ha ucciso nel letto dopo l'ultima minaccia. E poi alta attenzione sui rifiuti, ne parla anche il messaggero, tra Ecomafia e Regione, incendi e discariche, è un quadro preoccupante. E poi scuole più sicure con le telecamere regalate dagli sponsor, mentre sempre da Perugia il questore Finocchiaro dice questura strategica, nessuna riduzione. Andiamo anche agli esami per i nuovi dirigenti scolastici, aspiranti presi di 81 Umbria al top, il messaggero pubblica l'elenco di coloro che hanno superato la prova scritta e che ora hanno l'ultimo ostacolo, per così dire, prima della meta. Lo Sport arriva il Tour de Force per il Perugia, Nesta ritrova Melchiorri, a Terni, Fabio Gallo a Vicenza, conferma la linea verde. Torna anche Danilo Petrucci nella MotoGP determinato in Argentina, dice non voglio deludere. Questo per quanto concerne ovviamente le prime pagine, ma noi ripartiamo dal delitto di Gubbio, lo facciamo vedendo intanto i titoli dei quotidiani, il dramma al culmine dell'ennesima lite. Uccisa coltellate dalla moglie nell'abitazione di Via Cristini, la ricostruzione dell'assassinio non presenta incongruenze. Oggi si svolgerà l'esame autoptico sul corpo di Enzo Beangeloni, tutto avvenuto in pochi minuti, erano da poco passate le ore 16. E poi la Nazione, che titola Una vita d'inferno, con la foto di questo vicolo ormai divenuto famoso, Via Cristini, la confessione sciocca della moglie assassina. Litigi continui anche con il figlio. E poi niente arresto, settantenni non possono stare in cella, in base all'articolo 275, cartocomma del codice di procedura penale. Penale, lo ricorda la Nazione, infine il messaggero che a tutta pagina titola Ma detto quando mi sveglio ti strozzo. Queste le parole riferite dalla moglie, ovviamente che sarebbero state pronunciate dal marito prima di coricarsi. L'ultima lite tra Ezio e Graziella, la moglie ha ucciso il marito dopo le minacce. Ieri la donna è stata vista girare in città di prima mattina. Per lei, vista l'età, niente carcere. La tensione anche tra padre e figlio. L'avvocato della 76enne dice La vicenda rientra in dinamiche familiari causate dalla condotta di lui. Questo per i titoli, ma noi ricapitoliamo la vicenda in questo servizio tratto dal nostro Tg. Provata per quello che ha fatto, forse nemmeno pienamente lucida. Così Maria Grazia Fioriti, 76 anni, ex dipendente delle poste, molto nota in città, sarebbe apparsa di fronte al PM Emanuela Comodi, assistita dagli avvocati Claudio Fiorucci e Luigi Santioni, raccontando quanto accaduto nella casa di Via Cristini a Gubbio ieri pomeriggio, poco dopo il pranzo, quando, con un coltello, ha ucciso il marito Enzo Bei Angeloni, 79 anni. Due, i colpi sferrati, risultati fatali per l'uomo che in quel momento stava dormendo. Il frutto, ha detto Maria Grazia, di una lunga serie di liti che ormai da tempo c'erano tra i due. Avevano litigato poco prima, ha raccontato la signora, che sentendosi minacciata, ha deciso ieri pomeriggio di farla finita e aggredire in un raptus il marito nell'unico momento in cui avrebbe potuto sopraffarlo, nel sonno. Oggi è sconvolta, accolta dal figlio in casa propria, non raggiunta al momento da nessun provvedimento restrittivo della libertà. Non c'è pericolo, evidentemente, per il PM che possa fuggire o inquinare le prove. Sul fronte delle indagini, domani è attesa l'autopsia sul corpo della vittima. Dopodiché è atteso il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari, per le onoranze funebri. Questo dunque è il punto sulla vicenda. Abbiamo visto anche i titoli, cambiamo decisamente argomento, ripartiamo dal Corriere dell'Umbria, dall'economia, perché Philip Morris investe 500 milioni nella filiera italiana del tabacco ed è una notizia di carattere nazionale che però riguarda anche l'Umbria. È un accordo quinquennale tra la multinazionale e il Ministero delle Politiche Agricole, interessate infatti mille imprese tabacchicole tra Campania, Umbria, Veneto e Toscana. Questo per quanto riguarda l'economia. E poi l'inchiesta del Corriere morti per cancro. Punte alte in Alto Tevere e nel sud della regione. Ecco la mappa aggiornata del registro tumori. Il responsabile Stracci dice incide il tasso di anzianità. È appunto la mappatura della regione del registro tumori dell'Umbria che fornisce la statistica comune per comune ed è l'unico registro in Italia a fare questo servizio. Come dicevamo l'area del Tifernate e quella del Ternano resta più spesso delle altre sopra la media regionale ma sopra la media regionale ci sono anche Gubbio, Foligno e Assisi. Questo per quanto riguarda appunto il caso tumori. Qui le cartine che proprio ci riportano i nuovi casi del 2015 decessi del 2016 con ovviamente il rosso i comuni in cui l'allarme è più alto. Intanto si è parlato anche di ecoreati. Più controlli colpiscono le inchieste. La commissione ecoreati sferza l'Umbria obiettivi importanti sulla differenziata replica la Marini. Ma torniamo a parlare anche della Perugia-Ancona e soprattutto della questione legata ai mancati pagamenti delle imprese creditrici. Molte sono Umbre quadrilatero quasi 6 milioni in meno dalla Camera di Commercio di Perugia. Una sorta di ritorzione se vogliamo perché di fatto la decisione di accantonare parte della quota del diritto annuale destinata a finanziare l'opera è stata presa alla luce dei ritardi e delle problematiche emerse. Sono 5 milioni riferite al 2018 a cui si aggiunge un altro milione dell'anno in corso. Insomma la Camera di Commercio dice che quest'opera doveva essere finita. Non è stata finita nonostante sia stata finanziata. Non vengono pagate le imprese Umbre allora noi non elargiremo la nostra quota. Resta aperta la questione del Comitato dei Creditori delle aziende creditrici che è intenzionata ad andare avanti con la battaglia mettendo sul piatto alcune proposte e Corrado Bocci che vediamo nella foto di Pavi che è anche portavoce di questo Comitato Creditori dice che non capiamo perché non ci si voglia mettere intorno a un tavolo prendendo in considerazione le proposte è il governo l'unico soggetto che può sbloccare la situazione anche perché i tempi cominciano a essere pagati cari un'azienda marchigiana con 70 addetti ha portato i libri contabili in tribunale e tutto questo non perché sia gestita male ma perché non è stata pagata dalla Astaldi chi la crisi non la sente è la Lega Cop non c'è recessione per le cooperative ieri la conferenza stampa Perugia col presidente Ricci a tracciare un bilancio dal 2007 al 2015 le cooperative che fanno parte del circuito Lega Cop sono passate da 678 a 718 vedremo altri servizi anche in altri quotidiani la cronaca truffa in Costa Azzurra indagati tre perugini avviso di garanzia dalla procura d'Oltralpe per tre imprenditori del capoluogo e poi lasciamo la cronaca andiamo a parlare del questore Finocchiaro che si presenta guardia alta contro droga e criminalità va colto ogni segnale una buona notizia sconfiggia la leucemia e diventa infermiere festa al Chianelli è la mia seconda casa Silvius è laureato martedì presente anche i fondatori del Residence che ha ospitato mentre si curava ovvero Luciana e Franco Chianelli che saranno tra l'altro premiati a Gubbio dopo domani con il premio bandiera degli sbaglieratori che quest'anno ha voluto proprio omaggiare il lavoro meritorio che da anni da quasi 30 anni sta svolgendo la fondazione Chianelli telecamere per le scuole aziende invitate a farsi avanti il comune di Perugia lancia il progetto per aumentare la sicurezza negli istituti e poi la bagarre politica sempre a Perugia che riguarda dei Cinque Stelle scontro tra Grillini dopo la destituzione di Cristina Rosetti nonostante fosse capogruppo consigliare e candidata sindaco cinque anni fa è arrivata la candidatura diciamo dall'alto un po' a smentire le normali procedure dei Cinque Stelle di Francesca Tizzi ed è polemica sui nomi accuse incrociate su Facebook tra i consigli comunali Stefano Giaffreda e Michele Pietrelli e anche nel PD le cose non vanno meglio scoppia il caso delle deroghe per il terzo mandato segnalazione del consigliere Bori agli organi di partito l'assemblea non ha ancora votato lasciamo il Corriere andiamo alla Nazione ripartiamo dalle discariche discariche vita breve siti sotto inchiesta commissione preoccupata vita breve perché hanno più poco spazio e lauri ovvero l'agenzia Umbria rifiuti e idrico non intende ampliarle come ha confermato ieri sera Stefano Nodessi Proietti ospite del nostro link che come detto vedrete oggi in replica alle 14 Valnestore ecoreati indaga sui soldi caso Pietrafitta l'ultima relazione dell'asle sul rischio tumori tutto in questo servizio mentre la presidente Marini assicura ambiente attenzione istituzionale sensibilità abbiamo spiegato i grandi risultati della differenziata nell'audizione appunto alla commissione e poi posto fisso meglio più pattuglie parla il questore Finocchiaro guardia alta sulle infiltrazioni e ancora la cronaca qui ci spostiamo a Marsciano la vedremo dopo con i comprensori ma abbiamo anche la nazione sull'Ega Cop la crisi non spaventa nel periodo più difficile il numero di addetti è cresciuto ancora e poi domani l'intitolazione del percorso verde a Leonardo Cenci alle 10 a Pianni Massiano la cerimonia attesa per ricordare l'indimenticato testimonial della lotta contro il cancro politica il PD perugino fa lo sgambetto a Giubilei il suo candidato perché perché i Dem dicono sia il centro commerciale che il candidato aveva criticato questo per quanto riguarda la politica e poi ancora i nodi da sciogliere li chiamano la nazione favori agli amici 12 dal giudice scandalo sanitario regione Asle parti offese Perelli secondo l'accusa era il dominus mentre nuova sala d'aspetto radioterapia l'impegno della Onlus Aron che cura in un ambiente più confortevole di sanità parleremo stasera su canale 10 Ombria TV con ospite proprio l'assessore regionale Barberini chiudiamo con il messaggero le pagine regionali e di Perugia parliamo proprio di Perugia in tre scuole arrivano le telecamere operazione sicurezza con lo sponsor ma lo sponsor deve essere ancora trovato controllo dalla centrale della municipale si è mostro il nostro l'obiettivo di dotare della tecnologia altri istituti mercato coperto zero offerte ex ACAP c'è l'ok anche del PD per gestire lo storico contenitore c'è tempo fino a oggi su Pian di Massiano impallinato Giubilei che aveva bocciato l'idea e poi incendie e discariche ne parla anche il messaggero quadro preoccupante lo definisce la commissione Ecomafia regione si dice tranquilla sui tempi di esaurimento degli impianti ma 4-8 anni per noi non sono pochi i dati sulla raccolta differenziata sono degni di rispetto ma colpiscono le irregolarità ambientali e le denunce di scarso controllo intanto dalle telecamere sul ruogo della Biondi ancora pochi indizi anche il messaggero parla della conferenza stampa di Finocchiaro ma parla anche di consumi i prezzi vanno sull'otto volante crescono un anno di spesa nelle rilevazioni dell'osservatorio fino al 74% di aumenti per verture ed ortaggi listino più gentile per la frutta Clementine giù del 40% e poi gli aspiranti presidi sono 81 coloro che hanno superato la prova scritta qui c'è il loro elenco nomi e cognomi all'orale di maggio tanti vice e pure musicisti un insegnante di clarinetto e uno di violino almeno in 60 entreranno subito di ruolo e insomma buon lavoro agli 81 o comunque a coloro che tra gli 81 saranno chiamati a guidare i nostri istituti e infine via della seta se ne parla molto in questo periodo di rapporti Italia-Cina la delegazione cinese in visita a frantoie e cantine della nostra regione accolta alla Camera di Commercio dal Presidente Mencaroni noi andiamo ai comprensori lo facciamo partendo dal nostro sito trgmedia.it che apre ovviamente sul caso di cronaca di Gubbio che come vediamo ricorda ero esasperata appunto le parole della donna che ha appunto ucciso il marito nel pomeriggio dell'altro ieri nel pomeriggio di mercoledì scendiamo per le altre notizie dalla cronaca a Perugia la polizia arresta uno spacciatore 24 anni albanese l'automodellismo in primo piano nello sport e poi la Lega Cop anche sul nostro sito Lega Cop Umbria presentata a Perugia il congresso regionale che ci sarà la prossima settimana ma anche i dati 50 anni di passione per pittura e merletto nella mostra di Aldo Sartori e signora e poi link con la puntata dedicata a rifiuti differenziata di scariche che andrà oggi in replica e poi al Teatro degli Illuminati spettatori in crescita in tutte le rassegne tanti servizi approfondimenti come vedete le trasmissioni i plus lo sport che potete trovare nel nostro sito ma noi torniamo ai comprensori con i quotidiani torniamo al Lago col Corriere dell'Umbria allevamenti nelle zone dei torrenti nuovi vincoli il comune di Castiglione del Lago approva il regolamento che ne sostituisce 5 che erano in vigore una cena al buio per l'integrazione l'iniziativa di Lega Navale di San Feliciano Unione Cechi e Cavalieri di Malta siamo ad Assisi ovviamente città blindata per Conte e Merchel oggi i reali di Giordania sono arrivati da ieri ci sarà oggi la consegna della lampada della pace Todi un tuffo nell'antica Roma domani per un giorno la città fa un passo indietro di 2000 anni e torna a essere la colonia Iulia Fida Tudor intanto la biblioteca trasferita inizia la causa di lavoro il giudice si è riservato sull'eccezione del comune di Todi la città di Castello si parla di viabilità E45 presidio allo svincolo la riapertura completa del viadotto Puleto non si vede le organizzazioni sindacali mobilitano i cittadini qui a differenza da Perugiancone il ministro c'è già stato ma le cose non sono cambiate Calibro porta la cultura in Alto Tevere si rivolge ai giovani ieri l'inaugurazione e da oggi sfida tra poeti aperitivo musicale spazio dedicato ai più piccoli Avis parliamo di Avis che va anche nelle scuole per sensibilizzare la donazione al Cavallotti si offrono in 40 studentesse le più entusiaste e che sorpresa in rosticceria a Umbertide perché arriva Alessandra Amoroso la nipote fa giungere l'idolo dello zio Mario nel suo locale una bella sorpresa a Gubbio vediamo la politica abbiamo già visto la cronaca la coalizione per stirati detta le condizioni al PD vengono fissati punti per arrivare a un accordo mentre da Gualdo e dal comprensorio operai della JP allo stremo senza stipendio da dicembre niente cassa integrazione l'esame di maturità da domani si prepara alla sala Don Bosco tre incontri guidati da altrettanti docenti universitari gualdesi e poi a Foligno grazie al mago scatta la solidarietà il mago è Andrea Paris grande protagonista del Talent Italia Sgot Talent arrivato secondo nella finale è già al lavoro per promuovere una raccolta fondi per i bisognosi con i miei fan dice tutto possibile sarebbe un vero prodigio il suo ovviamente Topino in sicurezza rimossi 30 nidi scogliera necessaria per proteggere le sponde intervengono l'IPU e consorzio bonifica e poi ancora dal dal corriere picchia la compagna incinta siamo sempre a Foligno condanna tre anni per un nigeriano di 39 anni ha messo le mani addosso anche alla figlia di pochi mesi a Spello Guglielmo Sorci in campo per la lista insieme per Spello mentre tornando a Foligno Tortolini prende le distanze dal centro-sinistra l'assenza del delegato allo sport in Consiglio non è passata inosservata siamo a Spoleto altre quattro chiese dichiarate inagibili si aggiungono alle 13 già chiuse dai fedeli dopo i danni causati del sisma di tre anni fa pedalata sull'ex ferrovia arriva all'ok dalla giunta concessa sorpresa nulla osta la sesta edizione della manifestazione ma nessuno dice se partirà da Spoleto dove il bilancio prevede una stangata a metà minore ritocco all'insù dell'Imu l'incremento dell'aliquota fiscale e tassa di soggiorno meno pesante passa la proposta c'è il primo via libera con l'emendamento della maggioranza per limitare tasse e tariffe intanto anche la raccolta porta a porta in classe per 2000 studenti l'educazione ambientale passa per i banchi di scuola grazie alla VUS Terni un anno e la fontana tornerà a funzionare a maggiori parte il restauro del mosaico di Cagli del monumento di Piazza Tacito simbolo della città l'impegno del comune cascata delle marmore i lavoratori della vecchia gestione riassorbiti in blocco da Viva Ticket a Terni il lavoro non fa rima con donna solo il 35% degli occupati è di sesso femminile lo rivela la CGL platani pericolosi ore contate per potarli il comune si è dimenticato la scadenza si tratta di una specie protetta la legge vieta di toccare le piante dopo la fine di marzo quindi ci sono più solo due giorni intanto un elettrocardiografo donato per le pazienti del centro salute donna nuovo obiettivo centrato per aiutiamoli a vivere ancora da Terni al braccialdi la musica è finita se non arrivano gli stipendi docenti addetti dell'istituto parificato danno l'ultimatum la presidente dice condivido il disagio ma sono solo ritardi di cassa infine cimiteri di Orvieto e Morrano al Via Lavori per 382 mila euro lasciamo il Corriere lo ritroveremo con la cultura andiamo alla Nazione cade mentre gette rifiuti e muore la tragedia città della Pieve l'anziano è deceduto dopo 18 ore di agonia sarebbe scivolato su una scaletta dell'isola ecologica mentre reali di Giordania il grande giorno ad Assisi padre Enzo Fortunato dice da Assisi messaggio di pace di dialogo e di inclusione a Bastia profumi di primavera l'iniziativa che riguarda il centro storico e poi la politica da Gubbio centro-sinistra unito per stirati accordo col PD se sottoscrivono alcuni punti fondamentali qui due esponenti della maggioranza documento diffuso al termine della riunione di mercoledì sera e poi antico patto d'amore incontro in biblioteca per padre Luigi Marioli domani domattina alle 10.45 un'altra iniziativa legata alle celebrazioni dei 400 anni dell'assegnazione alla Chiesa di San Francesco della Pace all'Università dei Muratori ma domani alle 17 c'è anche il convegno sulla grande guerra o meglio la presentazione del libro di Maria Vittoria Ambrogi e Giambaldo Belardi dedicato al primo conflitto mondiale al coinvolgimento di tanti eugubini e ha uno scuppo un inedito il rapporto tra un eugubino che poi diventerà il podestà di Gubb Lamberto Marchetti e Luigi Pirandello sigillo percorso di educazione alla legalità l'unia lezione con i carabinieri e Gualdo preparazione all'esame di maturità ciclo di incontri in teatro presidio dei sindacati sull'AE45 e così apre anche la nazione per città di Castello la strada deve riaprire manifestazione il 5 aprile il ministro Toninelli mantenga le promesse danni incalcolabili dicono gli imprenditori locali il timore che invece le promesse se le porti via il vento giornate del FAI boom di presenze in Alto Tevere 2.000 visitatori nei siti e poi in pianti sportivi c'è ora il regolamento sempre a città di Castello varate le norme per la gestione e l'utilizzo delle strutture servizi efficienti e sicurezza e poi sempre dal capoluogo Tifernate città gemellate nel segno del tartufo bianco il sindaco Bacchetta ha incontrato il collega di Alba siamo a Foligno svincolo e variante sud sì del Cipe anche qui si parla di viabilità l'annuncio del sindaco inseriti nello sblocco delle grandi opere non abbiamo mai mollato anche quando tutto sembrava naufragare la foto di Gentiloni perché il suo governo aveva individuato le risorse per le due infrastrutture ma finora sono rimaste anche qui ferme questo per Foligno andiamo a Spoleto scuola a rischio se il prossimo anno non ci saranno iscrizioni a scuola e geometri pochissimi studenti e poi a Cannara salta il trasferimento delle fonderie Tacconi il sindaco Gareggia Bacchetta la presidente Porzi cascata siamo a Terni saranno riassunti tutti i lavoratori accordo tra sindacati e il nuovo gestore dal primo aprile 38 addetti in servizio e poi da Orvieto più risparmi e meno investimenti dati del centro studi depositi medi per abitanti più che raddoppiati mentre la battaglia della Camera di Commercio di Terni ricorso contro la fusione accolto dal Tar noi chiudiamo con questa carrellata dei comprensori con il messaggero messaggero che apre come abbiamo già visto con la vicenda di Gubbio ma vediamo gli altri titoli ovviamente assisi la lampada della pace oggi al re di Giordania momento storico la politica Gubbio il PD disegna il nuovo logo ma è spaccato sull'accordo con Stirati a Umberti De Locchi racconta la sua versione errori politici molto gravi nel bilancio e a Gualdo la coalizione Presciutti il PD accanto a tre liste civiche con il messaggero ci spostiamo a Foligno anche qui grazie al mago che promuove il territorio su scala nazionale dice mi smetti da bambino sono rimasto folgorato dalla magia della reazione del pubblico in cantiere una raccolta fondi per sostenere chi ha più bisogno intanto alla Sala Rozza di Palazzo Trinci si parla di vaccini oggi alle 17 grazie al Kiwenis Club Folignate mentre Quintana e Solidarietà e Rione Spade in campo per la Polisportiva Disabili il nuovo consiglio per la Proloco che si occupa di Vescia e Scanzano in cantiere tanti eventi promozionali col messaggero andiamo anche a Spoleto a parlare di bilancio ecco gli emendamenti per riuscire a ridurre la stangata leggermente rivisti gli aumenti per la tassa di soggiorno intanto una giuria stellare per il concorso di danza al Teatro Nuovo Menotti dal 9 al 13 aprile allarme l'ennesimo per i bocconi avvelenati di chi si accanisce sugli amici a quattro zampe e poi We Have a Dream la differenziata si impara a scuola con 2000 studenti superate due guerre non la crisi siamo a Terni addio allo storico negozio Grassi l'attività era stata avviata pensate nel 1905 al centro solo disagio e abbandono dice il titolare e poi cronaca Anziani sotto attacco gli orrogi nel mirino nel secondo caso nel secondo caso nel giro di pochi giorni i carabinieri sventano l'ennesimo colpo ancora da Terni operaio infedele rubava nella sua azienda il dipendente della Paolini sorpreso dai titolari mentre portava via la merce e infine infettati dai mariti femminicidi silenziosi racconti di due donne rimaste vittime ma a denunciare siamo sempre in poche un femminicidio silenzioso che si consuma tra le mura domestiche non viene denunciato il femminicidio delle mogli delle fidanzate delle compagnie che vengono infettate dal virus dell'HIV che diventano seropositive senza saperlo e spesso rendendosene conto tardi dai compagni e dai mariti che le hanno tradite e poi non hanno avuto il coraggio di guardare in faccia alla realtà casi anche nel Ternano chiudiamo con le pagine della cultura e su queste ci piace partire come dicevamo dal compleanno di Terence Hill gli 80 anni di un personaggio popolarissimo della cinema e della tv continuano a chiamarlo Trinità il titolo della pagina che la nazione dedica a questo protagonista del piccolo e grande schermo a firma di Leo Turrini che descrive davvero in questo affresco la figura la figura di Terence Hill con una foto emblematica del ciclo indimenticabile di Trinità insieme al suo fedele partner di pellicola Bud Spencer Mario Girotti al secolo Terence Hill un antidoto dice contro i malesseri e la crisi di identità della società italiana lo definisce Leo Turrini cui ha saputo regalare tra sorrisi e riflessioni tra finti cazzotti televisivi e investigazioni piccoli attimi di sollievo un artista conclude Turrini ha compiuto la sua missione quando ha saputo rendersi credibile in ruoli diversi senza perdere un'oncia di genuinità senza rinunciare alla leggerezza nobile come tratto distintivo buon compleanno Terence Hill Trinità Don Matteo e grazie si capisce questo buon compleanno ci uniamo anche noi ovviamente in questa pellicola filmata non può mancare una foto appunto di Don Matteo nei panni che lo hanno visto in questi ultimi quasi vent'anni protagonista i primi Chuck risalgono anzi a più di vent'anni fa più o meno il 1998-99 proprio qui a Gubbio e con con la Nazione proseguiamo le pagine della cultura Motta e Gazzelle al frontone torna il festival che spacca e poi le meraviglie del concerto di Pasqua evento di omaggio all'Umbria al Duomo di Orvieto il Requiem di Verdi con il Teatro San Carlo di Napoli che andrà in onda su Rai 1 dalla invece molte pagine dal Corriere dell'Umbria come di consueto il venerdì cominciando da Marsciano Giorgio Pasotti con Forza il meglio è passato giovedì prossimo al Teatro Concordia e poi le due pagine dedicate al weekend tutti a teatro con Burattini e PIS di Qualità Perugia il gran trionfo di Fagiolino interpretato da Mauro Monticelli mentre Spello va in scena mio padre non è ancora nato e tanti appuntamenti tra i concerti le rassegne gastronomiche la sagra della Polenta opere fotografie e fumetti a Spoleto domani domenica il Marconi Vintage e la festa di popolo a Umbria Fiera ovviamente con il fine settimana di Agri Umbria sulla quale torna anche il messaggero presente futuro dell'agricoltura messaggero che però parla anche della mostra della fondazione Unforgetable Umbria Palazzo Baldeschi torna il 900 Perugino che aprirà il prossimo 13 aprile è tutto per ora pubblicità tra poco lo sport è tutto per l'agricoltura